E dal Movimento 5 Stelle, visto che il ticket Violante Caramazza non passa, arriva un'altra proposta, un nome nuovo che svela l'onorevole Danilo Toninelli. Sentiamolo. Sembra che si siano accorti finalmente che Violante non ha i requisiti. Bene, passiamo oltre. A questo punto serve un nome nuovo. Noi gli appelli li facciamo da settimane e non ci hanno mai ascoltato. A questo punto un nome lo facciamo noi, l'illustre professor Franco Modugno. E' sì un nostro nome, ma nessuno di noi lo conosce, l'abbiamo scelto per i titoli e per la sua indipendenza alla politica. Lo chiediamo agli altri partiti, noi ci siamo.